Ciao a tutti da FAKING GAME 3, io sono il Petra con il secondo episodio di Metal Gear Stolite eravamo rimasti al punto in cui il presidente della DARPA moriva per un infarto, come dice qua, sempre aveva avuto un infarto quindi adesso dobbiamo andare avanti con il gioco no, non è stato un infarto, scherzavo sta nascondendo qualcosa, si, qua dice semplicemente che devo trovare Baker fa lagga un po' ogni tanto, non so perchè eh madonna dovrei aspettare che mi aprono cella in teoria in teoria qua non c'è niente ok, siamo usciti dalla cella della cella del presidente ci voleva un po' intorno non muovere madonna calma, non ti ho fatto niente ruppo bastardo, hai ucciso il direttore non sono stato io, diglielo direttore liquid? non sono liquid, io sono Snake non sei tu, sei tu non muoverti ma scusa fucili quadrati io con i legori facevo uguali da me è la prima volta che punti un'arma contro qualcuno famas sai, ti tremano le mani eh, non fai non riesci a spararmi, vivellino stai attento, non sono un pivellino, pivellino bugiardo hai uno sguardo di forza impaurito quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pivellini ahah eh, Snake è mica scemo eh tu parli troppo non hai nemmeno tolto la sicura pivellino io ho detto di non chiamarmi pivellino pivellino ino ino tu non sei uno di loro, vero apri quella porta hai una tessera, giusto? si così ce ne potremmo andare di qui sembra che saperemo gli americani oh, cavolo che sta facendo? non vuoi fare, spara adesso ci tocca ammazzare tutto ma è matta tutti ma è matta tutti è matta scena d'azione ti ho detto di sparare così si fa matta tutti vai, Snake eh, Snake eh, Snake io voglio una razione però che non ci farà male, Snake ma dai che non mi voglio le munizioni quella ma sarò tu, Braviz? ma brutto pezzo di me eh, Snake ma siamo qua grazie se non mi sono qua non ci sono qua così si pedaliamo magari richiesto inserire non ci saperemo non ci spingi anche non ci sorgeremo Grazie per l'aiuto. Aspetta! Snake è... un porco. Scusate il lag... che non mi so spiegare. Chi è sta gente? Io non mi ricordo più. Psicomantis! Me lo ricordo, Psicomantis. E come uno di quelli dovrebbe essere il fratello di Snake. Mi ricordo più come funzionava sta trama. ... P Q Q Q q Ne rincomando... Quelli che si si può dammipo, mi hanno aiutato? Non ammne un克! Comune Smart ability. Ehi, Psicomantis, cosa farei qua? Brava ragazza! Proprio brava! Naomi, ho appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati inanoidi a provocarla. No Snake, i inanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psicomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un lupo di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis? Psicomantis Ok, con ciò... Anzi, poi io devo... Ho la mia tesserina magica, che mi apre le porte. Qua c'è tipo 90... Ma che mi lagra qua? Significa che è tipo qualcosa di sotto... No, c'è niente. Scherzavo. Non è questa... Posso... In cui dobbiamo andare? Ma proprio sta zona che è l'alger. Oh! Proiettili! Ma pensano un po'? Oh! Proiettili! Proiettili! Va bene! Fanno solo bene i proiettili! Di qua c'è l'ascensore... Di qua c'è la porta... Non mi faccio andare... Penso che là in fondo non mi faccio andare di più. Qual'è sto rumore? No, io forse da lì sono arrivato. Hai ragione. Allora... Prendiamo l'ascensore che ha preso lei. 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 Io non vedo... Che piano sto andando perché non me li illumina. Lui mi ha messo a provarsi a illuminarsi. Ok, già a questo piano... Siamo al B2. Un momento. Un delle porte... Ehi la... Volevi fregarmi eh! Bastard! Io faccio la mia tessalina magica... C4 per 2! Fa C8! E batto il braccio! Niente qui! Open! No! Qua è già aperta! Cos'è? Ho troppi proiettili per la soffa! Ed è... Pazza! Questa? Pazza! 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 Anche lui! Tutti apri! Certo! Pazza! Granate! Boh dai! Mi sono rifatto l'attrezzatura! Solo che quando mi fa andare da nessuna parte, quindi parliamo indietro! Eeeh... Non mi sono scemo io! Eeeh... Questo gameplay cerco di farlo un po' più... Un po' più corto delle... Delle altre volte... Cioè dell'altro... Perchè... Penso di averlo fatto un po' troppo lungo... Ma... Mi fai... Andere piano! Anch'io da tanto! Oh... Ok! Perchè l'altro ha durato 37 minuti... Questo voglio farlo durare al massimo 25... Perchè... 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 Ok, bravissimo! Così si fa? Tu invece adesso non vieni qua perchè io devo passare Ecco, va che bravo! Iiii! Iiii! Non parti vedere, Snake! Iiii! No! 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 Bravo, Dio! Bravo, bravo, bravo! Bravo, io faccio qua, che ho faccio qua! Bravo, bravo! Apri qui! Geniale! Ma c'è un nemico qua? Ah, sta dormendo! Quindi se gli piace una pallottola in testa... Shhh! Non c'è nessuno di niente! Oh, il silenziatore Per la SOCOM! Adesso iniziamo a fare sul serio E ammazzo tutti, adesso così per divertimento Perché mi ha fatto girare le balle, eh? Ok, già abbiamo trovato il silenziatore Questa è una cosa molto positiva Ehi, da, non parti vedere, eh? Però... Il mio genio andrà... Si farà si beccare, eh? Oh, 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 oh! Fare il giro! Sta fa... Io odio questa cosa! Ok, tutti apri perché io ho la tessarina magica! Ma che bravo! Cosa c'è qua? Cardboard, box... No, dimmi che è la scatola! Wow! Io amo questa scatola! Cioè, perché... Quelli... Cioè, i soldati sono talmente stupidi che... Credono nelle scatole che camminano Poi se... Mi capita ve lo faccio vedere Che è bellissimo Ma io dopo che sono qua... Ma non gli posso sparare quelli giù? Sì che posso! No... No, non mi fa sparare... Peccato! Andiamo di qua... C'è qualche altra porta che potrei aprire Che io non mi permesso speciali Invece l'ho già stato! E c'è quell'affare che mi fissa Ok, passiamo di qua E dai, io ci speravo! Dedi qua, Sanco? Eh, ma forse di qua ci sono arrivato Sai... Non mi ricordo più Ma so dove sta andando Ma di nuovo nei tubi Mi faccio bene andare di qua No, brega, poi mi perdo io Proprio Mi sa che non dovevo andare da lì Forse dovevo andare... Dove c'era la cella? Da dove sono arrivato? Non dovevo prendere l'ascensore? Iniziano a venirmi dei dubbi Le situazioni sono... Sono piene, vero? Allora torniamo alla cella, va? Che è meglio Si, vi ho fatto perdere No, però ho trovato la scatola Che è utilissima Perché per infiltrarsi Questi... Questi credono a una scatola Quali loro, eh? Ma io una volta Non avevo tipo le chaff Che mi sembrava funzionassero Le chaff non erano quelle che gli sballavano tutte le... Ehi la, che roba Che non mi beccano mai più, comunque Sì, che servono per... Per sballare tutte le... Per fare lì Le cose, come si chiamano Le... Le telecamere Che ciò? Che ciò? Che ciò? Che ciò? Fammi scendere e... Che ciò? Che ciò? Che ciò? E quindi mi sa che Devo tornare... andiamo alla cella andiamo al B1 ok rieccomi, ho dovuto tagliare il video perchè stavo cercando un modo per andare avanti perchè sennò veniva due ore e basta ho scoperto che bisognava far esplodere un muro col C4 e sto andando avanti al B2 fanno pure un po' di gente nel cartello però perchè io vado in giro col C4 e qui cosa devo fare? devo spararci al C4 molto esplicativa come sta poi non penso che crolli però a tentarlo muoce e infatti non è crollato abbiamo C4 a casa al massimo lo riprendiamo no non non ho i miei idea di come si vado avanti qua ok la prima parte cioè la seconda parte scusate finisce qua nel frattempo cercherò di capire come andare avanti quindi perchè qua a me non sembra ci sia molto ok va bene ci vediamo al prossimo video cioè la prossima terza parte di Metal Gear Solid bye bye ciao 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 ciao